Ciao a tutti ragazzi, sono Joe Fizzis e quest'oggi siamo qui con Minecraft Story Mode Questo è un nuovo episodio Nel scorso siamo intrati nel Tempio dell'Ordine della Pietra Andiamo a vedere che cosa ci aspetta Posso prendere la spada? No? Ok Andiamo con calma Ok, non succede niente Ruben, no! Ecco I'm in trap Oh, corri, corri Eh, non l'avevo capito, giù Eh, di qua Eh, eh Sono morto, sono morto Oh, caspita Ok Devo stare più attento Vai E giù Così Ok Ok, non salve Oh, no, ancora Oh, no, ancora We're trapped We activated the dispensers with that pressure plate If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off There's a crafting table, maybe we can make something useful Out of what? We don't have anything All of our tools and materials are back home No, 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 sapevo niente No, no, sapevo niente All right, everyone, empty your pockets Let's see what we've got to work with I have a few sticks left over from building the shelter last night I've got some flint and A piece of string All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded Let's see, I've got Potremmo fare tipo un arco Oh, and some string from a spider that I fought in the woods earlier String, sticks, flint and feathers Facciamo un arco Vedete le frecce Ok Ok, prendiamo le stringhe Ecco un arco Allora dobbiamo fare le frecce Allora Ok, non mi ricordo Però vado logica Era tipo una cosa del genere Ah no Ok, allora era così Così Ok Abbiamo un arco e una freccia Quindi abbiamo solo un colpo Dobbiamo colpire a presto il trigger Ok E vai, funziona All right È vero È vero No, siamo ancora all'ordine del maiale È una camera degli incantesimi Sembra uguale Al basement di 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 Ivor Ok Ok Qua c'è Lucas E qua un incantesimi E qua È un incantesimi E' un incantesimi È un incantesimi 5 5 15 so much to change place ii offer ii suoi ii st storia 6 Evor era un dizio del... cosa Delle scale Andiamo su Ora, questo è bello Wow Che succede con le pietre? Più che succede con questo posto Questo è dove si incontrano Quindi dove sono? Gabriel dice che quando troviamo il templo dobbiamo usare l'amuleto? ma come? non c'è niente ok cerchiamo qualcosa che ci siamo persi guardiamo la mappa è la mappa dell'intero mondo ma è minuscola ok qui c'è Olivia qua c'è un coso no 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 il pedestal qui dovremmo metterlo lì c'è anche il simbolo us amulet e non c'è niente però ok come possiamo andare parliamo con non con Lucas con Olivia ok dobbiamo cercare qualcos'altro allora delle leve ci sono proviamo a tirare queste switch 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 vabbè facciamo queste tutte le dobbiamo a tirare mi sa e anche quella laggiù che non so perché ho lasciato non questa questa qui e poi anche questa non quella questa e anche questa perché non la selezione questa no ok questa qui è difficilissimo però ce l'ho fatta no non è così perché sono a fare cose a caso quindi non quella lì questa ok e non succede nulla comunque non lo so boh magari andiamo di qui no non da Ruben da questa cosa qui no neanche da Lucas vabbè ok il davvero non possiamo farla con nessuno forse c'è tipo un ordine boh ok sì mi sa che c'è tipo un ordine non succede ancora niente ok ok ora sono tutte spente proviamo da quella centrale ok poi questa e poi questa e però non succede niente continuo ad andare a essere giù e ora proviamo quest'altra non capisco cosa devo fare vediamo che ci dice questo qui Axel oh succede qualcosa oh finalmente ce l'ho fatta ragazzi ma cosa starà succedendo scopritelo nel prossimo episodio di Minecraft story mode ok 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 ok